Ci troviamo ora a Lizzano nel chiostro del convento di San Pasquale, un convento storico che purtroppo nell'ottica di un piano di razionalizzazione rischia appunto la chiusura. Beh è un'opera artistica, ha un grosso valore storico ma al di là di questo vogliamo sottolineare la valenza, il significato sociale di questa realtà per la comunità lizzanese. E giornalisticamente intendiamo dare il nostro piccolo contributo affinché la decisione di chiudere, di sopprimere il convento, su questa decisione chi di dovere ci ripensi. Siamo in compagnia di Angelo Nisi dell'Associazione Pietre Vive. Allora ripercorriamo un po', parliamo della storia di questo convento, il suo valore, la sua importanza. Rapidamente tracciamo un iter di tutte le evoluzioni storiche che lo hanno riguardato e poi parliamo del rischio che incombe, ossia quello della chiusura. Sì, questo convento è un convento sorto nel 1742 ed è un convento che da sempre rappresenta un punto di riferimento per la cittadinanza lizzanese, un convento alcantarino. Nel corso del tempo poi si sono avvicendati vari ordini monastici tra i quali, per ultimi, i frati minori francescani che sono ininterrottamente presenti in questo convento dall'inizio del secolo scorso. Questa presenza ha contribuito ad edificare il nostro paese, la nostra comunità, non soltanto sotto l'aspetto spirituale, che è prettamente il compito di chi diviene sacerdote o amico di San Francesco, ma soprattutto ha edificato questo paese sotto l'aspetto sociale, fornendo spesso dei servizi alla comunità. Siamo vicini ad un pozzo, siamo nel chiostro, siamo vicini ad un pozzo, questo era il luogo dove venivano ad attingere acqua alla popolazione del paese quando nel paese non vi era questa possibilità. Oppure possiamo ricordare frati di venerata memoria, come padre Stefano Marchionna, primo parroco tra l'altro di questa comunità, che, insomma, istituì in maniera antesignana una sorta di caritas giornaliera, perché qui venivano ad attingere quel poco di cibo che era necessario per il sostentamento. In altri periodi probabilmente questa era veramente una cosa necessaria. Poi le grandi opere che hanno realizzato questi frati, opere che parlano da sole, le opere parrocchiali sono veramente un vanto, abbiamo un asilo parrocchiale, abbiamo le sale parrocchiali per la scuola di catechesi. Il momento proprio di aggregazione, di socializzazione, soprattutto in una realtà in cui nei comuni, nei paesi c'è un forte rapporto diretto, non è una metropoli. Per cui questi sono dei punti di riferimento, di raccordo, di unione. Diceva qualcuno che c'è una sorta di osmosi tra la comunità e il convento dei frati francescani. Sono una cosa sola, ecco, sono una cosa sola. E questo lo testimonia la presenza numerosamente evidente da parte dei laici che partecipano alla vita sociale di questa realtà, dando dei servizi anche alla comunità. Basti pensare all'associazione di cui faccio parte, che organizza nel corso del tempo, dell'anno liturgico, diversi momenti di aggregazione sociale. Prossimamente avremo le Antoniadi, sono dei giochi per bambini di ieri e per uomini. In onore della festività di Sant'Antonio. Sì, proprio perché c'è stato questo culto. E poi in modo particolare la devozione verso la passione di Cristo, che è qualcosa che appartiene a Lizzano e che la nostra associazione si sforza di portare ovunque nell'Italia. Ecco, si è cercato di mobilitare la comunità lizzanese, di coinvolgere l'amministrazione comunale, che è stata attenta, pronta a difendere un momento della sua vita, della sua storia, che è appunto il convento. E a che punto siamo? Ci potrebbero essere speranze? Noi stiamo facendo questo proprio perché abbiamo la speranza concreta che magari si possa, con un po' di buonsenso, rivedere questa decisione. E' vero, la carenza vocazionale porta in maniera dissoluta a dover scegliere quale convento chiudere, è ovvio. E questo ovviamente è capitato a noi, poteva capitare a un'altra comunità. Ma noi vorremmo che in qualche maniera si potesse gestire meglio le risorse umane che ci sono. Quindi magari dove è possibile le comunità che siano composte magari anche da tre soltanto, senza necessariamente avere, ovviamente questo non spetta a noi perché ci sono delle regole, non le comprendiamo, però tenere... Non usare diciamo il criterio matematico, ragioneristico, ma considerare diciamo l'aspetto sociale. Sì, sì, questo non va sotto lo dato. Questo è un paese che potremmo dire essere di una periferia sociale, no? Per tante ragioni. Questo luogo, questi frati hanno rappresentato sempre un punto di riferimento. La crescita dei nostri ragazzi ha subito in maniera positiva il fascino del francescanesimo, l'amore verso la natura, la difesa della natura, fanno parte del DNA lizzanese. E voler mandare via i frati in qualche maniera ci potrebbe privare, Dio ce ne scampi, ma ci potrebbe privare veramente di un punto di riferimento importante. Eccoci con il sindaco di Lizzano, l'avvocato Dario Macripo, un impegno forte da parte dell'amministrazione dalle Iretta per salvaguardare l'esistenza di questo convento. È stata una decisione dell'amministrazione proprio di difendere la propria storia, le proprie tradizioni ed esaltare il valore e il significato sociale di questo convento. Sì, tieni conto anche del fatto che ognuno di noi, oltre ad essere un amministratore, poi comunque è un cittadino. Come cittadino e come cittadini, lo dico a nome un po' di tutti anche dell'opposizione, noi ci sentiamo, come posso dire, padroni di questo convento. Cioè questo convento fa parte della nostra vita quotidiana e non possiamo pensare a una vita lizzanese senza i frati minori, quindi senza padre Guido e padre Pio, senza questo convento. È l'attività che tante associazioni riescono a fornire a Lizzano attraverso tutto quello che il convento nel suo complesso riesce a organizzare. Quindi Lizzano è grande, il presidente Merito Nisi diceva, Lizzano come periferia. Lizzano ha bisogno delle due parrocchie. Lizzano avrebbe bisogno anche di una terza parrocchia, perché c'è una zona di Lizzano, la località di Fesola, che avrebbe bisogno anche di un ulteriore insediamento. Quindi privarla già dei due esistenti, di uno dei due esistenti, sarebbe una grave perdita. Fa parte della nostra vita, quindi noi non vogliamo... Proprio del tessuto storico e sociale. Parlavamo con il rappresentante dell'associazione Pietre e Vive, proprio dell'importanza anche per i più piccoli. È un punto di riferimento. In un mondo dove esistono i social, dove si perde lo scambio interpersonale, invece questi sono quei pochi luoghi e quei pochi momenti di contatto e di confronto. Sì, non solo. Ma l'utilità è a 360 gradi, perché le prime scuole a Lizzano sono state proprio quelle che sono state offerte e fornite dalle parrocchie, quindi dalla parrocchia San Nicola e dal convento San Pasquale. I frati hanno sempre puntato sui più piccoli, sui giovani, fornendo loro non solo una formazione cattolica cristiana, ma anche la liturgia dominicale, e anche tutta una serie di occasioni formative, ma anche di gioco, quindi la formazione nel gioco. È caratteristica del convento organizzare a giugno le Antoniadi, quindi lunedì prossimo inizieranno le Antoniadi, che vengono coinvolti i più piccini, ma anche i più grandi con giochi tradizionali. Io ho una formazione, una formazione... Faremo proprio uno speciale la prossima settimana sulle Antoniadi, dove evidenzieremo non solo il momento ludico, ma anche quelle tradizioni, anche culinarie, che fanno parte della comunità lizzanese. Quindi pensare alla chiusura di un convento è una cosa che veramente è impossibile. Noi faremo di tutto per avere anche l'ispirazione di fornire quelle considerazioni al Padre Provinciale che possano, chi ha deciso per la chiusura, far cambiare idea e assumere una posizione e una decisione. Dicevo, avrete avuto sicuramente più contatti con la comunità ecclesiale. Speriamo bene. Che atmosfera si respira? Intanto noi abbiamo avuto la disponibilità ad essere ascoltati. Io sono convinto che poi vi sarà la sensibilità per ascoltare le preghiere, voglio usare questo termine, che provengono da questa parte del territorio che ha bisogno di conservare questa perla vitale. Anche suppongo i genitori, le mamme, i papà vedono questa realtà come un punto di sicurezza per i propri figli. Un riferimento dominicale ma anche quotidiano per chi fa il catechismo, per chi viene qui a giocare, per chi si forma. Ma ci sono, oltre ai bambini, tante associazioni che si esprimono nell'ambito del Convento San Pasquale. Quindi, per usare anche un termine che noi leggiamo anche nelle Sacre Scritture, il Convento, noi riteniamo che sia acqua viva che zampilla. Bella espressione proprio. Acqua viva che zampilla, noi vorremmo che continuasse a essere acqua viva che zampilla. I parroci, Padre Guido e Padre Pio, hanno sì 75 anni, 77 anni, ma loro... Pillole di saggezza. Sono pillole di saggezza e quindi attraverso loro noi abbiamo tutta l'esperienza, tutta la pacatezza e poi ci rendiamo conto che sono persone che possono ancora dare la loro. Io scherzavo l'altro giorno, chiaramente, con Padre Pio e Padre Guido, per altri 30 anni loro possono lavorare. Lunga vita ai nostri frate. In questa posizione del territorio. Padre Pio Montagna, un frate, parliamo dell'attività che voi svolgete, soprattutto nei confronti dei più giovani, un momento di formazione, di salvaguardia di certi valori. Noi in questo luogo siamo da tre secoli e da 40 anni gestiamo anche la parrocchia di San Pasquale. Io in particolare sono parroco. La nostra presenza è legata al significato di questo luogo. è un convento francescano per cui è portatore dei valori di Francesco d'Assisi. Umiltà, semplicità, gioia, fraternità, pace, amore. In particolare, da quando questo convento è stato dichiarato parrocchia, noi svolgiamo, sia pure sempre in chiave francescana, la nostra attività pastorale, che ha un ampio spettro. Certamente comprende i ragazzi, i bambini, i giovani, ma anche anziani, ma anche ammalati, ma anche fidanzati, ma anche sposati, ma anche... Ecco, tutti coloro che hanno bisogno di accostarsi a Cristo per ricevere da Lui la grazia di vivere una vita serena, una vita tranquilla. Dunque, tanti motivi per dire sì alla prosecuzione dell'esistenza del convento. Assolutamente sì, diecimila volte sì. Non si può, non si può, interrompere una presenza così lunga nel tempo, così incisiva nella popolazione, così legata ai frati, al convento, alla parrocchia. Io sto qui da otto anni e mi sono convinto di una cosa, non si può pensare la comunità civile e religiosa Lizzano senza pensare al convento, alla parrocchia San Pasquale. La ringrazio. Per i miei suoi comuni, tutte le cose che sono statane di amare, per noi uomini, per la nostra sapienza, di scese dal cielo. Chiara Caniglia, presidente del Consiglio Comunale di Lizzano, è delegata alla cultura, il valore, l'importanza culturale di questo convento e le motivazioni per difendere la sua esistenza. Allora, il convento per noi lizzanesi rappresenta un'istituzione da sempre, un percorso spirituale che noi tutti abbiamo fatto qui, nel nostro convento e insieme ai nostri frati. Pertanto abbiamo deciso di convocare qui il Consiglio Comunale per dare sostegno ai nostri frati e al nostro convento, che sempre si è occupato, oltre di attività meramente spirituale, anche di cultura, perché ci sono tante associazioni che sono sorte all'interno di questo convento e hanno fatto della cultura il fulcro delle loro attività. La Passione di Cristo è un evento importantissimo per noi lizzanesi ed è sorta proprio in questo luogo. Antonio Cavallo, Consigliere Comunale di Lizzano, già sindaco, per uno sforzo comune per salvare il convento, l'esistenza del convento. Sì, vogliamo salvare non soltanto un presidio di spiritualità, vogliamo salvare una storia, vogliamo salvare un grande patrimonio culturale, vogliamo salvare i franti francescani che con il loro carisma in 300 anni circa di storia, di loro permanenza nel nostro Paese hanno portato un grandissimo contributo e di cui non vorremmo fare a meno. Per questo noi siamo qui in Consiglio Comunale questa sera. Qui non contano più maggioranze e opposizione, qui è un discorso bipartisan, è un discorso, è un patrimonio della cultura lizzanese che va difeso all'unanimità. Mi auguro proprio di sì, che il Consiglio Comunale questa sera possa esprimere all'unanimità una volontà di intenti, cioè di conservare la presenza francescana nel nostro comune. Credo che in questo caso non c'è maggioranza, non c'è minoranza, c'è una unica volontà ed è quella di continuare ad avere i franti francescani fra noi. Grazie, ciao. Valerio Morelli, Consigliere Comunale di Lizzano, una battaglia bipartisan per difendere qualcosa che appartiene al DNA lizzanese, al patrimonio culturale. il criterio ragionieristico di razionalizzare i conventi e quant'altro, beh, su questo criterio bisognerebbe soprassedere per una volta. Ritengo di sì, perché il capitolo dei frati francescani, dei frati minori del Salento, credo non abbia colpito, non sia stato adeguato alle parole del Papa, che prevede che la Chiesa sia vicina agli umili, agli ultimi, e che le risorse vengano sfruttate e utilizzate meglio nella periferia, piuttosto che nei centri ricchi e sviluppati, come Martina Franca. Probabilmente Lizzano meritava qualcosa in più da questo punto di vista. Però forse non tutto è perduto. Eh beh, credo di no, credo che ancora ci siano dei margini per... Altonde, il consiglio di questa sera è indicativo e significativo? Sicuramente, sicuramente noi siamo qui per tutelare, non soltanto l'ordine dei frati minori e frati francescani, che da anni ospitiamo qui, in particolare il mio pensiero va a Padre Guido, ma anche affinché risultino e restino tutelate le tante associazioni di Lizzano, perché questa è una vera fucile. Fuori da qua c'è degrado, droghe, illegalità. Noi vogliamo che almeno resti un'opportunità per i tanti giovani di Lizzano. La battaglia per salvare l'esistenza del convento di San Pasquale a Lizzano prosegue. Ora ce ne andiamo in pubblicità, ma al rientro avremo altri momenti di questa battaglia, una battaglia di civiltà, pubblicità. E nel tentativo che si sta compiendo per salvare l'esistenza del convento è giusto ascoltare un po' i cittadini lizzanesi. Siamo con Antonio Marzo, mio carissimo amico, qui non in veste calcistica, nonostante la maglia, ma ora al di là delle battute, è proprio l'importanza di questo convento per la comunità. Beh sì, io direi essenzialmente una cosa importante, che tutte le iniziative, gite, Antonia, qualunque attività sportive, qualunque attività, di aggregazione, partono tutti dal convento di Lizzano. Per cui questo è 300 anni che esiste, non vedo per quale motivo all'improvviso, si decide di chiudere una cosa che non è giusto che sia chiusa. L'attività deve continuare, la struttura deve continuare, basta, tutto qui. Io penso che, come me, credo che il 90% dei cittadini lo pensano esattamente così. Ora alcuni cittadini che firmano questa petizione per salvare l'esistenza del convento. Qui abbiamo un altro lizzanese che pochi secondi fa ha già firmato. I motivi di questa volontà dei cittadini di dire dobbiamo difendere il nostro convento? I nostri motivi sono essenzialmente legati alla nostra tradizione, alla nostra cultura, alla nostra fede e alla nostra spiritualità. Lizzano da sempre è una cittadina francescana. I nostri giovani nella nostra città, che è tanto ferita, non hanno un granché. L'unico fiore all'occhiello della nostra città è proprio il convento. E quindi perdere questi frati, francescani soprattutto, significherebbe per noi una grave perdita, dato che grazie a loro parecchi giovani, parecchie persone, si avvicinano al convento. Soprattutto evitano le forme di devianza. Perfetto, visto che Lizzano è una cittadina che ha grossi problemi sociali in questo campo. Posso? Ecco un altro cittadino che ha appena firmato la petizione. Allora io faccio l'inizio di un cammino di un francescano e questo è il mio posto di incontro dove io veramente trovo la pace. Quindi vi prego di non toglierci ciò che veramente diamo nel cuore, innanzitutto, ma per tutti i francescani che sono qui a Lizzano. E' un'altra cosa, siamo 11.000 abitanti a Lizzano e una sola chiesa non può abbassare. Il Santo Padre Francesco parla sempre delle periferie, Lizzano è una periferia dove hanno bisogno del convento e di tutti. Vi preghiamo di pensarci con tutto il cuore veramente. Eccoci, qui abbiamo alcune mamme che stanno firmando questa petizione. Un motivo anche per difendere una vita sana improntata a valori cristiani puri dei vostri figlioli. No, perché onestamente siamo abituati alla figura anche del frate francescano e vorremmo che rimanessero, perché come tradizione ci dispiacerebbe cambiare. Ecco, lei signora appena firmato? Sì, niente, è una cosa insomma non bella, insomma non gradita, visto che ormai da tanti anni che abbiamo questo convento francescano, insomma, e quindi è una cosa un pochettino che ci sconvolge. Grazie. 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 Grazie.